Quindi, boom Random physics, ti vediamo Ci sono, ci sono, aspetta un attimo solo che tolgo lo sfondo Ok, no Fai un po' il pesce No, non è che facci il pesce Devo ancora togliere lo sfondo Però è qualcosa vederti Aspetta un attimo Comunque è un buon risultato È un 50% Ok, adesso dovresti vedermi Scusami, ma veramente non riuscivo a togliere lo sfondo Perfetto Cioè, era tutta una questione di crederci No, guarda, più che altro era una questione di capire come funziona OBS Che non lo uso praticamente mai Come stai? Ma guarda, bene, grazie In realtà sono abbastanza sorpreso di questa chiacchierata E sono onorato, insomma, che tu abbia voluto parlare con me di fisica Quindi adesso cerchiamo un po' di capire come affrontare questo argomento Insomma, che abbiamo deciso di trattare oggi, no? Che è l'equazione di Schrödinger Fantastico Ti ho invitato ovviamente per parlare di Turchia e di Iran e di Kurdistan No, scusa, cioè, di fisica dobbiamo parlare, no? Ti ho appena detto che dobbiamo parlare, appunto, dell'equazione di Schrödinger, no? No, no, ci sta, ci sta Anzi, correggimi ogni volta che dirò delle cose imprecise Anche perché è molto comune, in realtà, che nel racconto del Kurdistan Che è molto complesso Manchino dei pezzi Noi cerchiamo di essere sempre molto precisi, però è complicato Quindi fermami ogni volta No, guarda, forse c'è stato un malinteso Nel senso che quando dico che vorrei parlare di fisica Intendo dell'ambito scientifico della fisica Quindi non intendo dire che vorrei parlare di geopolitica O di paesi, di situazioni particolari all'interno dei vari paesi Di cui praticamente non so nulla Pensavo proprio alla fisica Cioè, quando dico equazione di Schrödinger Intendo quell'equazione che c'è nella cosiddetta meccanica quantistica Quindi io direi di escludere il discorso geopolitico Ah, ma quindi fammi capire Tu comunque escludi? Sì, escludo Cioè, vorrei evitare, insomma, di parlare di geopolitica O comunque di argomenti di cui non ho nessuna competenza E diciamo anche conoscenza Essere sinceri completamente Ho capito cosa vuoi dire Però quello che mi confonde è questo Nel senso, cosa pensi che succederà adesso? Ma forse la cosa più pratica è che io inizi direttamente a parlare appunto Dell'equazione di Schrödinger Che mi rendo conto essere un argomento un po' tecnico Però secondo me la meccanica quantistica viene spesso raccontata In un modo che è un po' tutto fumo e niente arrosto Quindi vorrei cercare di togliere subito di mezzo il fumo E appunto parlare di qualcosa di un po' più tecnico Però questo non è che ti fa trovare l'arrosto Nel senso No, no, capisco quello che vuoi dire Ovviamente se uno non ha le basi tecniche È inutile parlare, diciamo, di strumenti tecnici Ma in realtà quello che intendo dire È che comunque si tratta di divulgazione Ma di una divulgazione dell'aspetto tecnico della fisica Perché il modo in cui si divulga di solito Fa un po' trasparire un'idea sbagliata di scienza Cioè uno pensa che Ognuno possa dare un po' la propria opinione In realtà non parliamo di opinioni Parliamo effettivamente di fatti E i fatti, secondo me, emergono in modo più evidente Parlando dell'aspetto tecnico E su questo ti do ragione Scusa se ti interrompo Sempre per capire, per aiutare anche chi ci sta ascoltando a capire Quindi non è tanto Non ho un'opinione generica sul concetto O più un'opinione situazionale Dipendentemente dal contesto Ma secondo me è proprio il concetto di opinione Essere sbagliato Non è un'opinione situazionale È più che altro proprio una questione di fatti scientifici Che uno può poi verificare Ed è per questo che abbiamo anche Il linguaggio della matematica Alla base della fisica Ti faccio un esempio Esiste un ambito Che è la teoria quantistica dei campi In cui le persone Utilizzano dei metodi Che sono, diciamo, un po' creativi Un po' quasi artistici Parliamo della cosiddetta rinormalizzazione dei campi In cui uno aggiunge dei termini Toglie dei termini Però si tratta comunque di Fatti che poi hanno un loro riscontro E vengono comunicati in modo Assolutamente oggettivo E non ci sono opinioni di mezzo Però sono ancora confuso su una cosa Nel senso Dicevo, ci sta il discorso che tu hai fatto Sui termini Le condizioni che portano a inserire o togliere No, guarda, scusami, shite Interrompo subito Mi dispiace Ma se andiamo a parlare di teoria quantistica dei campi Non finiamo più Io adesso cercherei di parlare appunto Dell'equazione di Schrödinger Altrimenti non riusciamo proprio a parlarne In questa nostra chiacchierata Ovviamente stiamo parlando di cose Di cui si occupano persone Che hanno dedicato Centinaia se non migliaia Di ore di studio A questi argomenti Quindi non si tratta di una cosa Che in una chiacchierata Risulterà chiara al 100% Vorrei che fosse chiaro Che chi si dedica Allo studio approfondito Degli argomenti Della fisica moderna Sono persone Come dire È proprio una specifica Categoria di persone Che finisce a fare quelle robe lì Non è da tutti Non in senso buono È in senso buono e cattivo Devi essere proprio Parte di un percentile Piuttosto Piuttosto ristretto Perché Perché ti spacchi Perché devi Sì vabbè Adesso detto così Forse è un po' esagerato Ci sono persone Che tranquillamente Fanno i ricercatori In fisica Moderna Senza problemi particolari Però bisogna dedicare Una certa quantità di fatica Tutto a posto? Che succede? Spero che questo non sia rumore di pioggia Ah la pioggia Vabbè a sto punto Se vuoi possiamo anche interrompere la chiacchierata Visto che sei in moto Insomma vai pure Sono contento che piova lì da voi Almeno perché qua in Alto Adige È proprio Zero Non piove da mesi Quindi Non so Se vuoi andare Possiamo anche parlare di sta cosa La prossima volta Se no adesso magari due minuti ancora Ti parlo dell'equazione di Schrödinger E poi la chiudiamo Ritengo che l'Alto Adige Rimanga comunque una specificità All'interno del territorio italiano Con una storia meravigliosa Interessante Particolare Con delle diversità Culturali Tutto quello che volete E possa tranquillamente farlo all'interno Dello Stato italiano Per come è adesso In questo io sono molto Mi rendo conto Molto conservatore Alla ricerca dello status quo Perché non mi piacciono i conflitti E perché mi rendo conto Che aprono Alla possibilità che ce ne siano molti altri Perché allora anche il Veneto Perché allora anche la Sardegna Perché ancora la Sicilia E allora anche il Piemonte Allora se ne vanno tutti Ovviamente non può funzionare Una roba del genere Nel momento in cui io auspico Un'unità europea No? Ma guarda Interessante come discorso Però Adesso scusami Non prenderla male Ma sei sicuro che Vuoi parlare effettivamente Di fisica E di equazione di Schrödinger Perché mi sembra che Tu con la testa Sia un po' più su Su altre cose Burbone sporco di nuovo Burbone sporco Vabbè Burbone sporco di nuovo Burbone sporco Ciao Shai Ciao ciao Bene ragazzi Grazie per aver guardato questo video Ovviamente si trattava Di uno scherzo Questa chiacchierata Non è mai avvenuta Nella realtà È il primo aprile Immagino che ve ne siate accorti Però su internet È sempre meglio Specificare le cose Il canale Breaking Italy È un canale che comunque Fa un ottimo lavoro E questo era semplicemente Un video scherzoso Detto ciò Noi ci vediamo sabato prossimo Con un video vero Cioè con un video Che riguarda Un argomento scientifico Visto che alla fine Oggi Non siamo nemmeno riusciti A parlare Dell'equazione di Schrödinger Allora A presto Ciao ciao